Dobbiamo cominciare a rivedere alcuni trattati per liberare risorse e fare investimenti. E anche sulla politica monetaria, noi secondo me abbiamo avuto il merito di scatenare il dibattito e a questo è servito il tema che noi abbiamo posto più volte sul referendum sull'euro, come peso contrattuale, come estrema razio e come via d'uscita nel caso in cui i paesi del Mediterraneo non dovessero essere ascoltati. Ma noi non siamo contro l'Unione Europea, noi vogliamo restare nell'Unione Europea a quei tavoli ridiscutere alcune delle regole che stanno soffocando la nostra economia e che stanno danneggiando la nostra economia.